Ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su Clash Royale, è uscito il nuovo pass, facciamo oggi la reazione a tutto quello che hanno troppato, vedremo anche il nuovo reset, la nuova scalata, vi chiedo solamente in cambio un like gratis, l'iscrizione alla campanella per non perdervi le live, le stiamo facendo alle 18.30, alcune alle 20.30, è fondamentale la campanella sia dell'applicazione YouTube che del canale, tutte e due insieme, e codice Grax alla fine dello shop, prima della shoppata del pass se volete supportarmi. Detto ciò, il lag è onnipresente, in questo momento ci sta giocando troppa gente, entra nel tempio del silenzio, X, Grax è arrivata a campione grandioso, abbiamo il moltiplicatore per 5, bisogna capire come funziona, lo scopriremo insieme, vedrete poi domani il video di come sono arrivato a campione grandioso, peccato che non ho pushato di più perché potevo pushare anche di più, ma non ho avuto il tempo, tranquilli perché durante questa season faremo robetta veramente top. Vado a cliccare, veniamo resettati a sfidante 1 e abbiamo il moltiplicatore per 5, credo che se vinciamo un match scaliamo direttamente alla sesta win, una roba del genere. Salendo sono curiosissimo di vedere se c'è un'altra motto oppure le motto è rimasta la stessa, questo è tutto normale, i gradini mi sembrano tutti identici, 6 gradini da fare per arrivare a campione grandioso con il baule preciso, 7 gradini per campione royale, vediamo se le motto è stata cambiata, le motto uguale. Quindi bene che Grax non si è ammazzato per fare campione definitivo, la prenderemo durante questa season. C'è già gente che ha finito i gradini in un giorno con il moltiplicatore, ma seriamente oppure questa è roba vecchia, io penso che sia roba vecchia, roba incredibile. Tornando indietro abbiamo un baule gigante da aprire, potenziamento della carta, non è un problema. Voglio pure vedere se ci hanno lasciato i token per fare bono, il re scledrone potenziato eccetera. I token per fare il baule, dimmi di sì, 600 su 200, bene rega, 6 girate gratis. Vediamo al volo gli standardi, il primo ma, il secondo carino, il terzo in 2D, poi abbiamo un mascalzone, la pirotecnica che se non ricordo male già c'era, abbiamo un buono querpecca, un monk sotto che è quasi più bello degli altri. Girata per voi, si comincia, vediamo cosa riusciamo a trovare, non penso uno di quelli rarissimi perché non ha tolto, abbiamo trovato lo sfondo con gli arieti, carino. Altra girata per voi, poi faremo qualche partita, non vi preoccupate, robetta, attenzione, fiori di lodo, ma niente di che. Comunque, 200 spesi, ne spenderemo anche altri perché bisogna consumarli in quanto li rifaremo con le missioni giornaliere. Baule torato per noi, andiamo a shoppare il pass e vi faccio vedere che posso prendere l'oro, stiamo accumulando un sacco di roba. Ci sono le torri queste qua del monk che sono molto carine, c'è l'emoticon di monk con la freccetta che la rimbalza, ed infine un libro delle carte rare che non ce puzza più il baule della trentesia posizione, la moneta, è ok. Tutto regolare, mi sembra, nulla. Di nuovo 5,99 il pass per la modifica delle tasse dell'App Store e Play Store. Speriamo che Clash Royale venga inserita all'interno, grad, codice, oh Grax, venga inserita all'interno del Supercell Store così da prendere i bundle. Da quello che ho capito ci sta per uscire Brostars, non so se faranno il passaggio del pass a costo gemme in euro su Brostars con i bundle. Seguiremo e poi Grax vi aggiornerà. Posso prendere altri 20 token, ci piace, uh li ho sprecati, occhio non me li fa più ritirare, a differenza del pass precedente. Bisogna consumarli tutti, molto bene, sicuramente spenderemo molte meno gemme per fare le girate. Shopper pass e andiamo a giocare, a testare il nuovo cammino delle leghe. Entrate nel primo giorno all'interno dei Clash Royale perché è possibile che all'interno del vostro clan qualcuno abbia shoppato il pass. Infatti se vado a dare un'occhiata, Grax l'ha messo, qui posso donare roba gratis e richiedo l'ultimissima carta rara che ci rimane da richiedere. Salgo sopra, 7.50, 7.50, 7.50. Le reazioni al nuovo pass sono sempre meravigliose, soldi per noi. Se gode un botto vai, guarda quanti hanno trovato la Fenice, c'è qualcun altro che ha shoppato il pass. Altra girate per voi, poi faremo una partita e ne faremo altre. Di girate, bello questo sfondo Rascals con il dragone, quello gold. Siamo a 300, posso aprire il baule gigante. Leggendaria dal gigante! Ragazzi, è una cosa rarissima. E se c'è un campione? Mamma mia, leggendaria. Dimmi la Fenice, te prego, perché... Niente, vabbè, la Bandit. Il prossimo video sono sordi, comunque. Il prossimo video sarà il potenziamento di Monk con testa all'interno delle leghe. Tutto preciso, è quel momento di fare un test e vedere come funziona il moltiplicatore per 5. Il deck lo abbiamo, esatto. Partitozza! Siamo in match! Eccoci qua, un peccone dall'altra parte. Noi abbiamo sempre il Pork Rider festoso. Bellissima! La nuova arena, che poi l'avamo già vista all'interno dei trofei, della scala dei trofei. Però, come vi avevo predictato, l'avrebbero sicuramente modificata nelle leghe. Praticamente, l'arena quella speciale sarà quella che poi andrà nelle leghe. Io me ne vado a sinistra. Diciamo che sì, il reset ci può stare. Però il fatto che i Pro Player altissimi debbano ricominciare dall'inizio, mi sembra una forzatura. C'è un campione definitivo che ti ricomincia a Lega 1. Cioè, che significa? Cosa ti serve? Fermo subito il jig. Esatto. Lui lo fermiamo. Buone quelle spatate. Forse mi tira una botta a torre. Devo tirare il log. Altrimenti non la racconto. Il gioco lagga. Fa veramente schifo. Siamo tornati a livello 11. È comodo comunque per provare deck con carte di livello basso. Buono quermago. Metto il moschettiere sulla parte destra per forza. Devo cercare di attutire il maghetto. Buona la tornato che sì, ci sta. Il mago mi ha fatto molto male. Me ne vado a destra. Forse sarà meglio mettere il domatore a sinistra in supporto perché metterà il Gran Cavaliere. Non lo mette! Attenzione, il domatore sotto torre. Con tanto di moschettiere. Questi sono danni pazzeschi del moschettiere. Quindi, una volta vinta la partita, rimarrà il moltiplicatore per 5 fino alla prossima Lega. Cioè, alla Lega dove eravamo all'inizio. Questo mi dirà una lamata? No. Oppure ci sarà un moltiplicatore per 4 successivo come aveva pronosticato Grax ai tempi della reaction alla Royal TV, aggiornamento e così via. Io ripeto, so dell'idea che forse è meglio un reset e per quanto riguarda l'endgame, piuttosto che mettere le medagliette che sono praticamente la fotocopia dei vecchi trofei, se non peggio perché c'è meno gente. Io metterei altri gradini da far scalare ai pro player, una cosa di questo tipo. 690 alla torre avversaria, dai Grax. Dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria. E, altra cosa, se perdo, perdo il moltiplicatore oppure ho la possibilità comunque di sfruttare il per 5. Chiedo per un amico, eh. Intanto qua metto subito lui. Esatto. Portalo a sinistra, moschettiere posizionato, log per prendere eventualmente il mini pecca, cercare di fare attenzione perché mi ha lasciato il signore, no? Un attimo che mi lagga. Ferma il mago Grax. La situazione è abbastanza in pari. Prova a pushare, ce l'ha tornato, non dovrebbe averla. C'è la torre infernale. Prova a tirare una fireball, ma, so sincero con voi, non è una bella situazione per quanto mi riguarda, soprattutto se lui mette il mago. Ferma lui. Fermalo di nuovo. Come ha fatto a giampare in un secondo? Fortunatamente l'abbiamo portato sulla parte di sinistra. Se mi giampa non è un problema, tiro il log per fermare. Scheletrini e mini pecca. Arriva la etta. E Grax c'è. Ho vinto la partita, rocounter. Ma abbastanza in merita. Vediamo se il gioco ci consente di scavallare la lega. La cosa positiva è che, credo con il moltiplicatore dopo, riesca a fare tutta la lega con due partite. Giusto? Rullo di tamburi. Bellissima la schermata di caricamento con questo rocket che viene respinto da Monk. Come sempre, un attimo che gli do una carichetta. Il gioco non è che vada benissimo in questo periodo. Non è un problema di connessione, ha proprio dei server. Lo sistemeranno. È troppo sovraccaricato. Non lo so. Sensore batti i mani. Ok, ha funzionato. Dopo qualche secondo, questo lo mettiamo in unlock. Ho preso un gradino gold, giustamente, perché sono tutti i gradini gold alla lega numero uno. Sto esattamente a sei e il moltiplicatore l'hanno passato a quattro. Mi servono tre partite per scavallare sfidante uno. Secondo me qualcosa è da ritoccare. Il sistema delle leghe è molto interessante, soprattutto per i player bassi, perché ho visto player con carte di livello 12 a campione definitivo. No, campione definitivo, campione grandioso. E ci sta, consenta a tante persone che prima non potono prendere queste ricompense, di prendere queste ricompense e comunque competere circa pari livello di deck. Però l'endgame, parere di Grax, è da ritoccare. Io faccio un'altra partita, però prima facciamo una bella girata di standard, così da prendere la roba per... Uh, carino il mascalzone. Dicevo, per le missioni. Forse devo fare un'altra girata. 100 su 200. Perché prima stava a 300. Bono Guerpecca! Eccolo qui. Ora la missioncina la posso riscuotere. Ma faremo anche un'altra girata così, mi scarico tutto quanto e possiamo fare un sacco di roba. Faccio al volo un altro match, così da studiare bene il moltiplicatore e utilizzare la provocazione. Let's go! Due vittorie e poi ci ribecchiamo con il test di Monk. E lì ci divertiremo che metterò al posto del golem del ghiaccio nelle leghe. Roba seria. E droppate un like se volete la reazione ai video che stanno facendo Ian o Yasu. Momo Light dove mettono Monk e Fenice all'interno dei deck. Roba assurda. Vi chiedo solo di supportare. Log preciso. Perfetto. Qua posso andare a mettere un golem del ghiaccio. Considerate che chi arriva a campione definitivo mi sembra che parte con un moltiplicatore per 6 poi ha un moltiplicatore per 5. Alla fine di tutto ti fanno scalare una cosa come un paio di leghe in totale. Ma che senso ha? Cioè se sei un player forte rifare tutti i gradini? Almeno dimezzami i gradini. Cioè fammi ripartire da un livello un po' più alto una cosa del genere. Cioè ci stanno delle forzature che non capisco ma sicuramente modificheranno. Non vi preoccupate. Qua vado a loggare. Occhio alla Valc che potrebbe farmi diversi danni. Buono il golem del ghiaccio che mi salva. E spero che la Valc faccia almeno qualche passo verso l'alto per raggiungere il golem. Viene totalmente frecciata dalla mia torre. Non prendo danni. Posso andare a sinistra. Il cavaliere da dietro. Dai again easy win. Cioè considerate che il reset è troppo scarso per me. Figuratevi per quelli veramente forti. Fare queste partite inizio lega ha senso? Non lo so. Voi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Io sto facendo la reazione a questo reset, a questo nuovo pass. Vi dico quello che penso ma il bello di youtube è che ci stanno i commenti. Voglio sapere la vostra qui sotto. La cosa positiva è che ci stanno riempiendo di risorse, obiettivi da raggiungere. Quello è meraviglioso. Per il resto sicuramente è meglio dei classici trofei che non erano accessibili. Assolutamente player. Occhio perché potrebbe avere qualche spelle importante. Ferma il mago zap e cerchiamo di ottenere più danni possibili dal moschettiere. Quello va giù. Le prime due partite sono di una tranquillity pazzesca. Domatore, zappino, si va davanti. Tira il log. Tira una hit. Perfetto, arriva anche il log e tutto preciso. Occhio però perché sto signoretta è ripartito. Io dovrei essere counter. Buona la veleno. Non mi sembra di notare la tornato. Con lo zappino riesco a fermare tutto. Con il log riesco a pushback senza prendere danni. La valchiria va sulla parte di destra. 445. Il grax da 3. Con la fireball colpisce il mago. Il domatore dovrebbe tirare una hit. Bene, abbiamo preso il moltiplicatore per 5. Quello per 4. Siamo sul pezzo. Partite che comunque ti consentono di partire subito bene. Fare subito delle win. Portare a casa una lega. In realtà non è vero perché io partendo col moltiplicatore per 5. Mi servono lo stesso 3 partite per scavallare la lega iniziale. Vabbè. Torniamo indietro. Non ho utilizzato la provocazione. Forse faccio in tempo. Sì. Forse ce l'ho fatta eh. Tanto lagga. C'ho il tempo di metterne pure un'altra. Il pollastro. La mettiamo. Ok. 3 anni per tornare indietro. 4 gradini ottenuti. Baule dorato. Missione. Incrociamo le dita. Spero fatta. Un attimo che gli diamo la carica. Ta 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 ta. No. Non mi ha dato la missione della ricompensa. Provocazione. Perché sono un po' lastro. Asciate verde. Bisogna farla durante la partita. Soli di lag. Non è cambiato nulla. Questo lo mettiamo in unlock perché il pass ce l'ho. Posso prendere qualcosa dal pass. Vediamo un attimo. No. Bisogna fare altre partite alle vinte. E sono alla decima vittoria. Manca una partita per la Lega. La farò con Monchino. Quindi vi chiedo il like. 12 like a testa per il potenziamento dei Monch che lo posso fare con 35.000. Iscrivetevi. Campanella. Codice Grax se scioppate il pass. Il pass è molto interessante. Il sistema gradini. Per quanto mi riguarda bisogna un po' migliorarlo. Bacio da Grax. Ci becchiamo live. Non mancate sempre il pomeriggio. Oggi pomeriggio. Domani scalata campione grandioso. Gli elites delle partite che mi hanno consentito di arrivarci. Registrate prima del cambio pass. Ve voglio bene. Ciao bellissimi. Ciao ciao.